Musica E' cominciata con una vittoria la nuova stagione per il Lecce di Nedo Sonetti davanti a circa 200 sostenitori giallorossi giunti dal Salento allo stadio Brianteo. 2 a 0 ieri sera in Coppa Italia sul campo del Monza e grande soddisfazione per le marcature dei nuovi gemelli del gol giallorossi, Sesa e Margiotta. Da record il gol dell'elvetico Davide Sesa giunto dopo 8 secondi dal fischio d'inizio. Sesa adesso dovremmo chiamarti Spidi? No, era un po' fortuna penso, come abbiamo fatto sempre negli allenamenti, palla lunga. Non era uno schema? No, si era un schema perché è stato un pallone lungo San Margiotta, questo lo facciamo sempre. Lui l'ha deviato con la testa, poi la fortuna che è venuta da me, ho provato, quella era fortuna. Iscriviti al canale! Grazie a tutti